Segui La Sette anche su Instagram. La Sette, ovunque con te. Marsala, questa signora, phantomatica signora, non l'ho mai vista. L'ho visto solamente in televisione a fianco al suo uomo. Io leggo qui Lady chi l'ha vista in Sicilia. Io ho appreso che è stata eletta nelle fila di Forza Italia con il presidente Berlusconi, fra l'altro penso sia la moglie, la fidanzata. Nel collegio uninominale alla camera di Marsala, Marta Fascina, Lady Berlusconi, ha avuto la meglio sugli avversari di PD e Movimento 5 Stelle. Eppure, qui a Marsala, qualcuno l'ha mai vista in giro? È una domanda che mi sono fatto anch'io. Che la conosco? La dobbiamo portare qua. A Marsala i trapanesi ci chiamano il paese degli asenelli. Forse c'è stata una volta in vita sua qui. Guarda, questo che gira, vede, ringrazio tutti gli elettori di Marsala del Vallo. Cercami, come, quando e dove vuoi. Questo è un punto della città che un marsalese doc deve conoscere. Da questa porta, la porta Garibaldi, entrò il famoso Garibaldi appunto. I marsalesi, almeno i nostri avi, hanno visto Garibaldi, ma non hanno avuto il piacere di incontrare la fascina. Ma che cosa le chiederebbe se la vedesse per strada? Eh, di come sta, quantomeno. E poi li venisci a trovare più spesso, magari. Noi Berlusconi già lo conosciamo da tempo. Deo ritorno, come dire, indietro. Mi pare lo strano. Io ho fatto che bato a Milano, mi metto lì e mi fa mettere la Milano. Punti. Non ho altro la dici. Io sono qui, ti servirò, ti basta.